Sono partite questa mattina le gare di qualificazione del Challenger ETP Castel del Monte di Andria. Sui campi indoor del Palasport e del Polivalente di Via delle Querce si stanno dando battaglia a 19 tennisti per gli ultimi quattro posti a disposizione nel tabellone principale degli internazionali. Occupate intanto le quattro caselle del Wild Card, il direttore del torneo Enzo Ormas ha assegnato gli ultimi due inviti agli italiani Riccardo Ghedin e Claudio Grassi, due si uniscono a Matteo Donati e Alessandro Giannessi. Inizialmente era stata data una Wild Card a Matteo Trevisan che invece è entrato di diritto nel tabellone principale lasciando il posto ad un altro talento italiano. Restano teste di serie del main drove, l'americano Jack Sock e l'italiano Paolo Lorenzi. Le qualifazioni sono iniziate, devo dire che ci sono molti ragazzi, anche molti local, che stanno giocando e si stanno anche comportando bene. Si chiuderanno nella giornata di domenica e poi da lunedì mattina la grande festa del tennis con il main drove e il tabellone di doppi insomma anche con tanti specialisti, anche italiani, come Motti, vincitore di molti challenge, insomma un grande spettacolo quello che si annuncia. Il livello del torneo, come abbiamo detto altre volte, è alto e soprattutto è alto da un punto di vista anche dell'equilibrio, quindi con valori molto simili e quindi che porterà i giocatori a delle partite molto tirate. Questo ha tutto vantaggio del pubblico che potrà godere di un gioco decisamente importante. Il tennis, soprattutto su questa superficie, è decisamente spettacolare perché costringe i due contendenti a cercare il punto, oltre che aspettare l'errore dell'avversario come può essere su altre superfici e quindi lo spettacolo c'è sempre. Non posso far altro che mostrarvi il palazzetto. Ci sono molti posti negli sfalti, quindi visto che abbiamo appena iniziato vi invito a venirci a trovare perché davvero è un grandissimo spettacolo quello che ci aspetta fino al 24. Oggi le partite si susseguiranno fino a sera con ingresso assolutamente gratuito. Domani a partire dalle 10 sui due campi da gioco è in programma un'altra giornata di gare e di qualificazione che assegnerà a quattro tennisti gli ultimi posti a disposizione nel tabellone principale.